L'evasione d'oro, diciamo, che nella vita si presenta sempre a ogni uomo, se sappiamo cogliere, è stata Busto Orsizio. Ad affrescare la chiesa era stato chiamato un pittore di Varese, Gandolfi, e sapendo un po' la mia inclinazione, mi voleva vicino a sé come un garzoncello, diciamo, però vedevo che io lo facevo con tanto amore e quindi mi voleva sempre vicino a sé. Quando ha terminato quegli affreschi nella chiesa di Busto Orsizio, prima di andare via, mi ha regalato i suoi colori e i suoi pennelli. È stato per me un grande dono di Dio. E allora, con questo materiale, da me tanto sognato e tanto desiderato, dovevo fare subito un qualche cosa. Allora ho chiesto ai miei superiori di poter dipingere in affresco, avevo imparato l'affresco dal pittore Gandolfi, su un grande corridoio del convento. Loro mi hanno detto, sì, nel corridoio potrei fare questi affreschi, non in chiesa. Io ho detto, sì, sì, in chiesa non le faccio, anche perché vedevo che delle superfici bianche e ben illuminate si prestavano molto di più alla mia pittura. Ma è vero che lei ancora oggi non butta i pennelli vecchi ma li seppellisce? Sì, è vero. Perché il pennello, praticamente, io lo reputo, lo sento come un prolungamento del mio corpo. E quando io ho usato un pennello, al quale trasmetto, non è un pezzo, diciamo, di leio con delle setole, e il pennello è un'espressione, un prolungamento della mia forza, della mia mano e del mio cuore. Quindi come faccio a buttarli via?